Iniziamo con questa foto qua, la vedete? Questo signore oggi, Mimmo Lucano, è stato uno degli uomini più famosi dell'Italia dell'accoglienza, uno delle 50 persone più influenti secondo Fortune, è stato arrestato. E gli arresti domiciliari, perché avrebbe gestito male l'immigrazione in maniera fuori dalla legge, sarebbe stata una sorta di boss delle cerimonie, avrebbe fatto sposare persone soltanto per avere un permesso di soggiorno. Arrestato, una cosa in questa bolla dell'ipocrisia in cui in Italia sembra che si sia tutti caduti, bisogna dirla subito, secondo voi è normale mettere a un arresto domiciliare prima di un processo un sindaco? Vi può piacere? Come a noi non piace, ma pensare che lui debba essere arrestato è una cosa forse fuori dalla legalità di una persona che pensa che il garantismo ancora debba esistere in questo paese. Ma in questa bolla dell'ipocrisia ci chiediamo perché Beppe Fiorello fa questo hashtag, come si suol dire, arrestateci tutti? Perché Saviano ci spiega oggi finalmente che quando c'è un'illegalità bisogna un po' vedere se è un'illegalità onesta? Perché persone anche di chiesa come Don Rigolli dicono beh, anche noi abbiamo violato le leggi per motivi umanitari, perché ci troviamo nella condizione, come hanno detto l'onorevole Boldrini e Gad Lerner, che questa è una fascistizzazione dello Stato? Quando fino a ieri ci avevano spiegato che i magistrati erano l'unica tutela della città in questo paese, ci avevano spiegato che il fatto che ci fosse un magistrato che indagava Salvini andava bene, ci hanno spiegato che un sequestro di 49 milioni per i soldi che la Lega avrebbe truffato agli italiani una cosa buona e giusta, non si può adottare una legge disuguale per tutti, non deve stare in carcere lui, bisogna avere fiducia nella magistratura, ma valga per tutti.